Per il terzo anno consecutivo il Red Bull Half Kurt ha regalato il meglio della palacanestro 3x3. A due passi dal mare, nell'Arena di Rimini, si sono date battaglia 20 formazioni maschili e 10 femminili per il titolo italiano. Dopo sette tappe, alla finalissima in Romagna, ha trionfato il team The Got nel comparto uomini, mentre la squadra FDC 3x3 nella categoria femminile. Ora la testa è proiettata alla finale mondiale in Serbia. A Belgrado, dal 15 al 17 settembre, l'Italia dovrà difendere il titolo conquistato in Egitto lo scorso ottobre. Vincere Red Bull Half Kurt è stata un'esperienza incredibile. Il prossimo step la Serbia potrebbe essere uno stimolo in più. Giocare con gente di altri paesi di tutto il mondo è sicuramente un'emozione che ti capita poche volte. Soprattutto noi che siamo minors, non è che ci capita spesso, quindi sarà un orgoglio poterlo fare. Vincere il Red Bull Half Kurt per me è la prima volta e vincere così di primo impatto è un'emozione fortissima. Siamo super contente, ce l'aspettavamo, però non si sa mai. Abbiamo vinto alla fine, allo scadere, quindi è stata ancora più emozionante. Giocarsi il titolo dei campioni del mondo in Serbia è sicuramente complicato, però noi andiamo lì per divertirci e per giocare la palla canestro e soprattutto stare in compagnia e stare tra di noi e goderci questo momento.